Nella Bassa Bresciana fa discutere il prossimo insediamento di un'azienda che produrrà con il metodo di coltivazione idroponica erbe officinali. Oggetto dell'alzata di scudi da parte del Circolo Legambiente Valle dell'Oglio e dell'Associazione Conoscere e Partecipare è in particolare il consumo di suolo in una zona adiacente al parco del fiume Estrone e in cui già sono presenti i capannoni dismessi. È facile capire che di green c'è poco quando si tratta di nuovo consumo di suolo e non ce n'era veramente bisogno e aumento di trasporto su gomma. Ci sono già ettari di suolo impermeabilizzato e quindi una buona amministrazione avrebbe dovuto fare un censimento delle aree dismesse sul territorio prima di concedere l'utilizzo di suolo vergine per un nuovo insediamento produttivo. Tutta la bassa bresciana è piena, pienissima diciamo di aree già cementificate e quindi noi dobbiamo sempre ricordare che il suolo ha delle funzioni in termini di mitigazione e anche il suolo assorbe CO2. Sulla questione è intervenuto anche il primo cittadino di Verola Nuova, comune di cui Cadignano è frazione. A Cadignano da tanti anni come amministrazione tra l'altro noi siamo in carica da cinque mandati e siamo stati riconfermati con il 70% nell'8-9 giugno, proprio avendo informato i cittadini anche di questa iniziativa. Stiamo creando un polo alimentare a Cadignano. Arriva questa azienda che si occupa comunque della produzione di essenze naturali dalle quali ricavano comunque dei prodotti sia per l'abbigliamento sia nel settore della cosmetica naturale e quindi dal punto di vista dell'impatto ambientale credo proprio assolutamente zero perché parliamo di aree, di l'utilizzo di un'area di smessa industriale all'interno della quale stanno creando una struttura per quanto riguarda appunto la vertical farm e quindi una coltivazione idroponica. Per quanto riguarda invece le serre che vengono realizzate, le serre in realtà c'erano già. Per quanto riguarda il consumo di suolo non capisco a cosa facciano riferimento considerato che le ultime aziende che si sono insediate esattamente in area di riconversione. Anche questa ultima di cui parliamo è un'area di riconversione. Grazie.